ben ritrovati ad una nuova puntata della scuola di tutti a tavola lezione dolce insieme a bruno bianchi della pasticceria bianchi ciao bruno ciao marianna oggi facciamo la crema catalana esatto allora bruno da dove si parte partiamo dalle uova che noi abbiamo già diviso in utile che ogni volta vi faccio vedere che ho imparato a dividere l'uomo bisogna preparare una massa con lo zucchero uova solo il tuorlo e montarla ok noi abbiamo fatto una porzione per 5 frusta maledetta io nel frattempo quantiamo sul fornello la panna con il latte nel fornello la panna con il latte quanto tempo più o meno deve andare in ebollizione appena incominciava a bollire perfetto vai bruno tanto che bruno guarda controlla la cottura io metto un pizzico di vanillina certo nel nostro uovo con lo zucchero ok ci siamo quasi arrivo siamo vero e proprio laboratorio è perché la emi sta preparando che cosa stai preparando le fiorentine noi facciamo la crema catalana insomma tutti al lavoro la panna è andata in ebollizione a questo punto mettiamo la panna nelle uova mischia bene marianna senza non troppo veloce se non ne vado così brava pensa quando mi sposerò e farà tutte queste cosine buone mio marito dovrà venire a ringraziarti io vengo a prenderle dal bruno a questo punto riempiamo i tre stampi con la crema così passiamo alla cottura la crema catalana viene cotta in forno a bagnomaria con l'acqua coperta con la stagnola per circa 30 minuti a 180 gradi noi abbiamo fatto una base ovviamente di acqua alluminio dopo la cottura catalana viene posta in frigo per circa un'ora e mezza rassodare bene abbiamo fatto rassodare la nostra crema catalana usiamo anche i termini giusti vero bruno giusto quindi dopo il forno diciamo la finitura ci va solo lo zucchero di canna e poi viene caramellato col cannello a casa se non c'è lo zucchero di canna il cannello si può mettere la fragolino ribes frutti di bosco che può essere più fresco un po diverso insomma si possono fare delle variazioni esatto questo zucchero di canna ok si sparge adesso col cannello tocca a me mariana caramella così brava dimmi stop vai vai così va bene perfetto bellissimo ecco la crema catalana è pronta da servire a tavola no a me prima non resta altro che assaggiare darvi appuntamento a mercoledì prossimo dalla pasticceria bianchi è tutto bruno grazie ciao 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 ciao